la vita è adesso ora accetto la mia abbondanza nel nome della mia amata presenza io sono e del mio amato santo se cristico invito i signori della manifestazione gli angeli della prosperità abbondanza ad assistermi ora nel dominare tutte le condizioni esteriori della mia vita nel modo perfetto di dio compresa la mia vera abbondanza carica nella mia vita e utilizzo oggi tutte le benedizioni che posso ricevere infondimi la saggezza e la purezza dei maestri ascesi affinché non possa mai più sperimentare mancanza o limitazione fai divampare la tua fiamma del cuore attraverso i miei sistemi corporei ed espandi senza limiti un grande flusso di abbondanza divina chiedo l'invincibile protezione e saggezza di dio in tutte le mie opere finanziarie in tutti i miei ingressi finanziari chiedo di diventare un magnete di attrazione che attiri a me tutta la ricchezza di cui ho bisogno per realizzare il mio piano divino sulla terra per compiere la mia ascensione per aiutare i miei simili a fare altrettanto ringrazio che sia fatto secondo la santa volontà di dio accetto ora la mia abbondanza con amore e gratitudine e così è è fatto la gratitudine è la chiave per attrarre maggiore abbondanza mostrate sempre gratitudine per tutto ciò che ho ricevuto